In arrivo dalle rispettive parrocchie di appartenenza, le confraternite locali per l'adorazione eucaristica comunitaria delle confraternite, nella domenica delle palme nella Chiesa Madre di Mussomeli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La confraternità di Maria Santissima delle Vanegle in San Terrico. La confraternità di Maria Santissima delle Vanegle in San Terrico. La confraternità di Maria Santissima delle Vanegle in San Terrico. La confraternità di Maria Santissima delle Vanegle in San Terrico. Arrabbiata Vergine Maria del Monte Carmelo. Grazie. 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 Ed è in arrivo la confraternità del Santissimo Sacramento in San Giovanni Battista. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.